buongiorno a tutti quanti questa mattina fa un caldo che sembra estate ci sono quanti gradi sono fuori minimo 30 minimo una bellissima giornata oggi di sole è molto molto caldo vediamo 25 gradi ciumbia ciume lina 25 gradi figa se a me state siamo sabato 11 marzo 2023 siamo andando a milano senza macchina prima manchia di parare buona giornata tutti quanti stasera